Siamo con Massimo Anselmi a questa prima uscita ufficiale dell'Arezzo. Lascia questa notizia che starebbe lasciando. La conferma? Allora, domani abbiamo un incontro con Giorgio. Sicuramente dobbiamo definire la mia partecipazione perché dopo una serie di situazioni che non ci vedo allineate è opportuno definire meglio questa partecipazione societaria. Qualche rammarico rispetto a questo? Come sono andate le cose? No, nessun rammarico. Io resto con un bagaglio positivo di questa esperienza. Sono diventato tifoso. Credo che la città ha riacquisito un patrimonio. Quindi ho avuto un compito, credo, importante. Sono stata parte vicina a questo progetto. Quindi ne sono soddisfatto comunque a prescindere. Penso che i tifosi debbano dirle soltanto grazie perché lei ha contribuito insieme a tanti altri a far sì che l'Arezzo non morisse. Questo starà loro. Sicuramente sono stato il socio fondatore insieme a Giorgio Lacava e Orgoglio Amaranto di questa avventura. Un'avventura che poi ha dimostrato tanti lati positivi nell'anno calcistico appena finito. Adesso ne ripartirà un altro però con condizioni diverse probabilmente perché il mio primo anno finisce probabilmente domani. Poi come si dice mai dire mai, no? Sì, esatto. Grazie. 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 Grazie.